L'anno scolastico partirà tra poche ore e tra supplenze in netto ritardo, cattedre che mancano e problemi sul personale non docente, le magagne ci sono. Il ministro Bianchi afferma però come i docenti non manchino e che anzi negli ultimi due anni siano stati e saranno sempre più gli insegnanti messi in ruolo. Per la Cisla però l'anno parte comunque male. Purtroppo c'è da rilevare una situazione di gravità data proprio da questa situazione precaria dell'amministrazione che non ha consentito di far partire in maniera ordinata l'anno scolastico che ricordiamo l'anno scolastico parte il primo settembre e non il 12 settembre che è l'avvio delle lezioni per la maggior parte delle scuole. Si può e si deve fare di più soprattutto in relazione alla stabilizzazione del personale docente e non docente perché finora si sono sentite tante parole e visti pochi fatti. La Cisla è un sindacato che ha sempre portato avanti la stabilizzazione del personale quindi noi vogliamo che il primo settembre il personale sia tramite le procedure concorsuali a copertura di tutte le cattedre e i posti vaganti del personale ADA perché al di là delle parole che mettono la scuola al centro dell'interesse del paese poi nei fatti ancora si fa risparmio sulla spesa del personale della scuola.